ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Joe Red e oggi scopriremo finalmente chi è il vincitore del collegio 4 si è conclusa da poco la quarta stagione del collegio una stagione che ha avuto veramente tanto successo sia in tv che anche sui social qualche settimana fa avevo lanciato un video dove vi chiedevo di votare il vostro preferito e poi a fine stagione avrei decretato il vostro vincitore siete stati veramente in tanti ad aver votato sotto i miei video e molti sono stati voti annullati avevo detto massimo due voti e invece qualcuno ha fatto di testa propria siete stati veramente in tanti e grazie a voi posso finalmente fare questa classifica di 16 posizioni ma c'è stato un voto che ha tirato la mia attenzione sto parlando quello di fabio che ha votato veronica non esiste nessuna veronica comunque andiamo a vedere la vostra classifica partiamo con la classifica alla sedicesima posizione troviamo matera benedetta cea la peperina con bensì zero voti in quindicesima posizione troviamo andrea bellantoni il fidanzato montuori gabriele il dottore veronica la sconosciuta con un voto per ciascuno chiara damuccio invece conquista la quattordicesima posizione con tre voti in tredicesima posizione troviamo di ordevic alex soprannominato il macio con quattro voti alla dodicesima posizione troviamo piccione sara miss dolcezza arresta mariana la supponente che loro hanno conquistato ben cinque voti per ciascuno undicesima posizione per robiano nicolò soprannominato il disc joker che si porta a casa sei voti siamo arrivati alla decima posizione e questa posizione troviamo alissa piccamiglio con sette voti la leonesa alla nona posizione troviamo vilma da dario maria la chiacchierona e fazzi samuel il musicista loro conquistano otto voti ottava posizione per cantamone francesco il narciso con dieci voti settima leghi gioia la saputella lei ha conquistato ondici voti sesta posizione per brondi martina l'artista che conquista tredici voti con quindici voti conquistano la quinta posizione ciupiliano george il don giovanni e giulio maggi la peste quarta posizione troviamo crispino vincenzo il gigante musella gianni nuzio il rapper bush antella ricci asia la strafottente e loro conquista questa quarta posizione con 20 voti a ciascuno siamo arrivati al podio vediamo chi ha conquistato la medaglia di bronzo in terza posizione quindi medaglia di bronzo troviamo la ribelle ovvero roberta zacchiero conquista questa terza posizione con 24 voti siamo arrivati alle prime posizioni di questa classifica e come avrete capito la guerra è tra mario picca e claudio autorefri fabio portami la busta grazie fabio tu hai un preferito veronica sulla sconosciuta ok ragazzi vediamo chi è il vincitore veronica fabio carte carte mandate le carte vieni qua aia 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 no dai vieni no veronica fabio con questo ho concluso il video se mi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da Joe Red iscriviti al nostro canale